Buongiorno 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 Felicità Felicità Ho visto le mie bambine Le ho abbracciate, le ho baciate Felicità Queste due bambine erano il desiderio più grande della mia vita, lo dico davvero e sono lì concretizzate Erano emozionati, contenti e soprattutto sono impazziti quando dai finestrini hanno riconosciuto i genitori che li aspettavano perché hanno vissuto con i loro genitori in passato, quindi insomma aspettavano di riabbracciarli, erano molto contenti La conversazione tra President Renzi e President Kabila un anno fa ha dato il finale scelta alla soluzione e siamo molto felici perché, ripeto è stato un lavoro per noi ogni giorno e ho lavorato dal mid-November